buonasera buonasera parliamo classici e parliamo di un classico anomalo per il momento io spero che diventi un classico classico nel corso del tempo col passare degli anni sempre di più che è uno scrittore che è mancato un po di tempo fa amici lo dico subito a scanso di equivoci e ci frequentavamo molto era uno scrittore che abitava nell'estremo ponente ligure quasi in francia a san viaggio della cima faceva il coltivatore di mimose vendeva queste mimose una volta all'anno campava di questo e poi scriveva nicorengo gli chiese questo libro che da anni e anni stava andava scrivendo lui era già una sessantina d'anni insomma era piuttosto in là con gli anni quando sta un po il primo libro che si chiamava all'angelo di avril dai naudi nicorengo con grande tempismo lo diede a italo calvino il quale immediatamente si innamorò di questo libro che un libro di frontiera e come cercheremo di capire assolutamente attivo anche dal punto di vista stilistico formale e anche contenutistico con una grande eredità che è sostanzialmente più che italiana francese perché francesco biamonte un enorme un'immensa cultura d'autodidatta aveva fatto anche il bibliotecario per un po di anni alla prosiana che è una biblioteca di una biblioteca di bordighiera straordinariamente importante per gli italianisti perché ha un fondo di marinisti e di seicentisti assolutamente straordinario e incomparabile rispetto ad altri fondi che ci sono in altre biblioteche sul barocco ma insomma questo era francesco e la sua cultura come dicevo era però eminentemente francese francofona sap che conosceva memoria l'esistenzialismo conosceva benissimo i filosofi francesi citava memoria merleau ponti che era il suo filosofo di questo era francesco vorrei cominciare a ricordarlo e a ricordare i suoi libri cercare di capire siano così fondamentali anche se non del tutto ancora come dire recepiti nell'inconscio collettivo della cultura italiana è sempre considerato un po un uomo di frontiere uno scrittore un po lontano dalla letteratura e dai sistemi letterari e dai sistemi di trasmissione culturale italiana eccetera e quindi è un uno scrittore che a mio parere va rivisto sono contento a questo proposito che in audi stia ripubblicando l'opera omnia l'opera omnia di francesco sono poi tre o quattro cinque libri insomma in tutto poca poca cosa ma sono lì dal punto di vista delle pagine dal punto di vista quantitativo ma qualitativamente assolutamente eccellente diciamo che francesco possiamo dire era uno scrittore come si dovrebbe dire uno scrittore che si in un certo se sembrava se scrivesse i suoi libri per pochi per quelli che lo sapevano intendere a colui che intende diceva sempre peter anche prima di cominciare un libro e questo colui che intende è il lettore che sa ancora dove sta di casa la letteratura che sa che quel linguaggio che noi chiamiamo così genericamente vagamente letteratura è un linguaggio che in qualche modo proviene da una resistenza rispetto al linguaggio globale al linguaggio dell'informazione al linguaggio usato anche a livelli eccellenti nel giornalismo o nella trasmissione culturale pura e semplice ma io vorrei cominciare con un piccolo aneddoto diciamo su su francesco francesco diamonti venire spesso a trovarmi io lo stesso trovare lui abitava appunto sul confine san biaggio della cima quasi in francia io sono ligure parte ligure e sto spesso il golfo del tiguglio a rapallo lui veniva da me ogni tanto una volta è stato per un mese o due o tre scriveva vento largo che a mio parere forse il libro che io preferisco assolutamente diciamo di grano lunghi il suo capo alla sera con una paginetta una paginetta di questo libro che andava scrivendo e così per sottoporre per discuterlo eccetera questa paginetta spesso era quella del giorno prima o forse anche quella del giorno ancora prima di ieri e di avanti e insomma era sempre la stessa ma questa stessa corretta ipercorretta cancellata riproposta riscritta da capo e poi come dire ma me la mostrava con tutte le cancellature le revisioni la pagina non non riusciva finché la pagina non era cosa allora che cosa significa questo può un romanziere che deve scrivere tante pagine al giorno la grande letteratura della grande tradizione diciamo eccetera no ecco può un romanziere essere così lento essere così minuzioso meticoloso impaziente con se stesso nel senso che non va mai bene niente non ha pazienza con la sua approssimazione e quando una frase non è del tutto precisa quando non viene raggiunto ebbè è una specie per agitare giorni e giorni ora questo atteggiamento che ho qui descritto in maniera piuttosto succinta è però l'atteggiamento che guida francesco biamonti in tutta la sua opera in tutta la sua anche carriera diciamo così sia più rapidissima di e di grande con esser di letteratura e anche di filosofia diciamo così soprattutto dicevo la filosofia francese contemporanea a lui contemporanea ora questo atteggiamento significa appunto cosa che francesco possiamo dire uno scrittore bielite nel senso che non possiamo confondere francesco scrittore diciamo una certa che non dico che siano male ma non possiamo confonderlo con tutta una serie di scrittori che abbiamo sotto gli occhi e non denominiamo neanche perché sono tantissimi quegli scrittori italiani parlo che scrivono romanzi quanti 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 tori ognuno di noi ne conosce ne ho dieci venti trenta insomma c'è una pullulare di scrittori oggi in italia come direbbe pazzeschi c'è uno scrittore oggi di a tutte le porte c'era un poeta oggi di secondo pazzeschi a tutte le porte oggi c'è uno scritto uno romanzere evidentemente che ci visita o ci assilla con i suoi romanzi allora questo questa cosa non io non credo che fosse uno snobismo da parte di francesco assolutamente no lui era molto tollerante era molto capiva tutto c'è nel nostro tempo si distingue scrivere in un altro modo vale a dire che questo essere uno scrittore non di massa era secondo lui secondo la sua opinione l'unico modo di essere scrittore non è neanche un altro non poteva essere uno scrittore di massa o uno scrittore come dire che conseguiva e conseguiva rispetto a certe regole del mercato allora questo per lui era inattuabile anche come progetto l'idea di vendere un libro l'idea di essere in una classifica l'idea di stare e di fare concorrenza l'idea di guadagnare un po di più con le persone d'autore ma sono tutti gli scotoccavano ripeto non snobismo per autentico carattere e un autentico etos diciamo così letterario che era caratteristico della sua vita di uomo oltre che della sua carriera di scritto cosa significa questo atteggiamento così schifiltoso nei confronti della scrittura diciamo così della comunicazione lo che riteneva che diciamo così la perfezione della scrittura la perfezione di una pagina la perfezione diciamo così e la concatenazione perfetta diciamo negli argomenti degli argomenti nella scrittura che è poi la letteratura se vogliamo fosse una specie non di obbligo soltanto formale mi spiego non fosse un risultato il risultato di un parmassianesimo mentale o diciamo così di un rondismo mentale vi ricordate cos'è la ronda quella rivista dove bisognava scrivere bene benissimo benissimo meglio che benissimo la bella pagina era il contrario della bella pagina fosse ripeto non solo un obbligo formale ma un obbligo morale cioè lo stile coincide con l'ethos in Biamonti ecco lo dico in termini molto semplici lo stile coincide con l'ethos l'ethos di uno scrittore è la sua perfezione formale cioè il suo messaggio che arriva nel segno che coglie nel segno il suo messaggio il colpo che centra al bersaglio questo è cogliere nel segno per uno scrittore significa e questo Francesco lo ripeteva spesso per uno scrittore significa dire ciò che ha da dire riuscire a dire ciò che ha da dire non è semplice non è semplice già Roland Barthes lo diceva la Marchesa uscì alle 5 beh ho detto la Marchesa uscì alle 5 però bisogna capire cosa significa questa Marchesa che esce alle 5 come lo voglio dire come imposto tutta la scena successiva all'uscita della Marchesa eccetera eccetera questo è dire ciò che voglio dire come cercando qui di farlo ma questa non è letteratura questa è comunicazione mentre invece su una pagina letteraria naturalmente il dire come voglio dire coincide non con il comunicare questa maledizione contemporanea del comunicare tutti comunicano ma con lo stile lo stile è il più alto livello di responsabilità morale che esista è il culme diciamo della responsabilità morale per uno scrittore la pagina di Francesco Biamonti da vento largo in avanti attesa sul mare e tutti gli altri libri non è in effetti bella non è una bella pagina come si potrebbe dire come quella dei rondisti come quella di tanti scrittori che si rifacevano è vero a quell'esperienza letteraria è una pagina piena di anche stride ogni tanto è piena di angoli e spigoli come diceva Leopardi un grande scrittore si trova sempre diceva Leopardi tra angoli e spigoli cioè deve come dire indirizzare il suo linguaggio come una nave nei marosi attraverso gli angoli e gli spigoli di qualche cosa che non si riesce a dire perfettamente che non corrisponde perfettamente a quella soluzione formale e stilistica ecco questa responsabilità che Francesco la sentiva in livello altissimo quindi era sempre alla ricerca del modo giusto di un certo modo di dire questo di un modo di dire si realizzava nel suo stile ognuno può aprire uno dei suoi libri si rende conto immediatamente pericolamente di quello che sto dicendo ad apertura di pagina ad apertura di pagina Francesco si riconosce tra mille tra un mille che XYZ di altri scrittori si riconoscono non si riconoscono abbastanza tutti uguali ecco questa cosa di essere tutti uguali non è un rischio non è un rischio per Francesco perché era talmente come dire impegnato dentro questa sua missione diciamo così di scrittore che teniva in modo alta la bandiera dell'ethos della morale della letteratura proprio la morale della letteratura che è impossibile è diventato sempre confondibile ora al di là di questa morale che diciamo che proviene e consiste come dire nel suo stile Francesco avere dei contenuti è ovvio no? i contenuti dei suoi libri sono dei contenuti quasi evidenti sono dei contenuti che noi capiamo molto bene e ci troviamo subito d'innanzi per esempio il primo che mi viene in mente è che forse il predominante contenuto diciamo così contenuto dessantissimamente parlando forma contenuto il contenuto delle pagine dei romanzi di Francesco era un contenuto eminentemente sociale ricordiamo che originariamente Francesco era un socialista ma era un socialista di quelli vecchi non certo Carassiano vero ma era un socialista era un libertario no? per usare una parola un po' più generica no? ma era un libertario socialista era un uomo di questo genere e questo problema sociale lo sentiva in maniera eminente direi che in ognuno dei suoi romanzi in ognuno dei capitoli dei suoi romanzi in ognuno dei paragrafi in ognuno dei capitoli questo problema sociale è identificabile all'istante all'istante la pena dei vinti la pena dei vinti ricordiamo che Francesco ha anticipato uno dei problemi che più ci preoccupano oggi e che preoccupano tutte le persone di buona volontà di buonsenso che non sia appunto Salvini o cosa del genere cioè il problema diciamo di questa enorme massiccia immensa migrazione che sta avvenendo e avverrà sempre di più in quegli anni negli anni in cui scriveva appunto diciamo vent'anni fa i suoi libri Francesco questo non c'era perché c'erano alcuni arrivi c'erano alcuni passaggi da una frontiera all'altra dall'Italia alla Francia infatti i protagonisti spesso di Francesco sono i cosiddetti passati quelli che questi clandestini a passare il confine naturalmente di frodo e questo era quello che facevano e questi popoli della notte come chiama lui perché passavano sulle gioglie degli appennini naturalmente nottetempo con mille pericoli eccetera erano i popoli diciamo che in qualche modo annunciavano la loro pena in questi libri denunciavano enunciavano la loro pena in questi magnifici libri di Francesco ecco questi popoli della notte lo troviamo nelle parole della notte lo troviamo questo diciamo i libri di Francesco potremmo leggerli anche come dei bellissimi saggi sull'ineguaglianza sull'ineguaglianza sociale quando parlo di questi popoli della notte quando parlo di questo vi leggo soltanto una riga perché insomma è troppo bello lui lasciarlo stare in condizione di isolamento e di fine questa è una prosa di commento le parole della notte gli uomini entrano ed escono dalla notte si su questa terra dialogano con le cose ascoltano la liturgia del tramonto in particolare poi ho guardato questi popoli della notte e della fame in contraposizione ai francesi agli italiani di media cultura che sembrano vivere in un salotto sull'abisso che sembrano vivere in un salotto sull'abisso questo è un autocommento che Francesco faceva le parole della notte ed è un autocommento prezioso secondo me per capire proprio anche come dire la tempere culturale morale il chiodo fisso l'idee fix di Francesco che era un'idea di inquietudine sociale così non si va avanti c'è qualcosa che non è più tollerabile questi popoli della notte che premono sul nostro continente e che enunciano questa falsa dolcezza questa fatua dolcezza dell'Europa ebbè è un campanello che non si può non ascoltare è qualche cosa che ci tocca e con quella previsionalità straordinaria che certe volte hanno gli scrittori più dei sociologi più dei filosofi più di tutti ha capito qual è il problema cioè ha capito adesso lui non c'è più purtroppo ma aveva capito vent'anni fa almeno se non prima ancora quale era il problema dell'Europa e qual era uno dei problemi del mondo in quel momento ora tutti questi personaggi un po' si assomigliano questo lo diciamo subito tutti questi personaggi si assomigliano un po' ricordo soltanto il primo Gregorio che colpì molto Italo Calvino perché Italo Calvino fece una bellissima quarta copertina a questo primo libro di Francesco Viamonti che è una specie di giallo poi discuteremo anche cosa sono questi gialli cosiddetti di Francesco diciamo era una specie di giallo era un'inchiesta su un omicidio che avveniva sui bricchi come si chiamano sulle montagne Liguri sui dossi Liguri e sui diciamo dietro San Biagio della Cina questo personaggio si chiamava Sicorio ed è un marinaio è un marinaio che è sbarcato prima imbarcato naturalmente sui cargo sui cargo e poi sbarcato nel suo paese e che conduce in qualche modo a suo modo questa inchiesta poi c'è un altro personaggio Vary che è questo passeur uno di questi passeur di cui parlavo prima passeur di clandestini questo Vary che è il personaggio principale anche se assolutamente indeterminato di una strepitosa vaghezza dal punto di vista psicologico che è il protagonista di Vento Largo questo che ho detto prima è il mio libro che ho più caro di Francesco Biamonte poi c'è Edoardo Edoardo che è questo capitano di lungo corso un bellissimo personaggio anche questo anche se ripeto anche lui è un personaggio appena tracciato appena bozzato di cui noi sappiamo alcune cose ma non sappiamo tutto lo individuiamo lo identifichiamo attraverso tracce labilissime dal punto di vista psicologico eppure c'è questo personaggio si chiama Edoardo ed è un capitano di lungo corso che è il protagonista di Attesa sul mare che è il terzo libro di Francesco ed è un personaggio che è in viaggio verso la Bosnia sulla sua nave carica di armi cosa facciano queste armi chi debbano aiutare chi debbano combattere eccetera non è del tutto chiaro poi c'è naturalmente una tesi gialla tra virgolette anche lì in questo libro fino alle parole alla notte che è il suo quarto e ultimo libro che è uscito anche in riedizione recente tra l'altro con una mia prefazione perché io amavo molto anche tutti i libri anche questo libro di Francesco Leonardo che è diciamo così misteriosamente ferito non si capisce bene chi lo abbia ferito eccetera è una ragazza curda rapita al confrancita come vedete questi personaggi si assomigliano a tutti possiamo dire benissimo che è sempre lo stesso personaggio dettlinato in modi appena appena percepibili appena appena diversi questo è questo è un po' diciamo così il modus operandi di Francesco mi ricordo che quando si chiacchierava e chiacchieravamo spesso fino alle ore piccole bellissime o anzi oltre le ore piccole alle 4 alle 5 del mattino camminando spesso sulla riva del mare oppure davanti a un caffè eccetera e mi ricordo che lui diceva lo scrittore vero di una cosa sola e questa cosa sola è il suo paesaggio questa cosa sola è la sua ossessione è la persona nel senso proprio di persona vergomaniana che noi abbiamo davanti l'idea di persona che noi abbiamo davanti questa è sempre la stessa cosa che noi raccontiamo non è pensabile uno scrittore che parla di cose che non conosce bene o che ama così così o che ha appena visto intravisto è quella cosa è quell'angolo di mondo che ha davanti è quella persona che vuole rappresentare ecco queste due diciamo sono le cose fondamentali che Francesco a cui Francesco teneva ognuno ecco il secondo punto per procedere in questa brevissima analisi il secondo punto è questo dunque ognuno di questi personaggi così debole dal punto di vista della sua identificazione morfologica diciamo così è debole è debole non è forte non è un personaggio che noi che ci portiamo dietro come che soia Anna Karenina o Blonsky o Lucien Leuven eccetera non sono i personaggi che ci rimangono nella memoria perché noi perché dal punto di vista emotivo affettivo eccetera ci rimangono nella memoria perché conducono un'idea conducono diciamo così un problema ecco questo era il modo di lavorare di Francesco ognuno di questi personaggi dico si perde letteralmente nella narrazione non si ritrova nella narrazione come fa Don Abbondio come fa Renzo Tramaglino Renzo Tramaglino si ritrova più la narrazione procede più lui si ritrova e noi ce lo ritroviamo davanti il personaggio di Biamotti più procede la narrazione e meno si ritrova e più si languidisce più evapora allora questa evaporazione psicologica del personaggio evidentemente è la tecnica o il destino scrittorio di Francesco io ho scritto una volta e mi ha rimproverato molto Francesco Croce Bermondi che non è più su questa terra poveretto ma era veramente simpatico intelligente che Francesco era un simenon distratto il filo perdeva il filo della sua narrazione poliziesca gialla eccetera eccetera si dimenticava non andava alla fine del suo filo perché perché aveva altro da dire non era quello quella era una convenzione che non rispettava badate quindi questi incompiuti dal punto di vista del plot o dal punto di vista come dicono come si diceva in epoca sinologica diegetico no questo perdere il filo è tipico di un certo diciamo così scrittore italiano in particolare pensate soltanto a Carlo Emilio Gatto il quale di fili ne perde chissà quanti per esempio nel pasticciaccio che non conclude per esempio nella condizione del dolore che conclude no non è non è chiaro allora questo non concludere questo non ritrovarsi questo è il personaggio che non si ritrova nella relazione e l'autore che non ritrova il senso di una fine happy end oppure di una fine qualsivoglia è tipico di una certa prosa italiana nella quale noi possiamo identificare Francesco il che allora se questi non sono personaggi chi è il personaggio di Francesco il personaggio di Francesco a mio parere è il paesaggio il vero personaggio di Francesco è il paesaggio questo ben prima di me e ben più autorevolmente di me lo diceva Italo un altro caro carissimo amico e scrittore Italo Calvino che è lui che sia che ha preso Biamonti e ha deciso che diventasse uno scrittore italiano di quel livello e diceva che il il paesaggio nei libri di Francesco era un ragionamento non era una descrizione badate no che in genere no è quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno quello è come diceva De Santi su un plastico analizzato è la descrizione per eccellenza è la morfologia del luogo questa morfologia del luogo è impossibile è inattuabile in Francesco perché c'è un ragionamento sul paesaggio cosa significa il ragionamento sul paesaggio Calvino ce lo diceva appena ma poi possiamo intuirlo e possiamo anche deciderlo deciderlo questo paesaggio dunque questo paesaggio che determina naturalmente una poria nella scrittura di Francesco perché se un romanziere che deve raccontarci cosa fa un personaggio non lo fa o lo fa in maniera imprecisa e dice e a un certo punto si perde nel paesaggio evidentemente che fa un'altra cosa fa un'altra cosa dal punto di vista stilistico disloca la sua scrittura dalla prosa alla lirica è un prosatore lirico vecchia storia italiana quanti prosatori poeti abbiamo nella nostra tradizione ma lui lo era in maniera diciamo così iperconcettuale non era la bella pagina dello scrittore diciamo così dello scrittore lirico dello scrittore un poete che era tipico di una certa prosa italiana ben prima di lui è uno scrittore lirico ma è uno scrittore lirico perché la lirica per lui significa una poria significa un'impossibilità significa il non poter narrare il non poter narrare in un certo modo il non poter venire un oggetto un ponte una casa che fa invece un scrittore italiano in qualche modo non vedo diciamo sperimentazioni diverse sul piano di questa di Francesco e come se la modo come se la prosa non ce la facesse più ecco la fatica se dovesse andare da un'altra parte dovesse trovare una soluzione a diciamo a un a un inceppamento a uno stridore che la prosa stessa produce facendosi che è la lirica che è un'altra cosa è un soccorso di un altro linguaggio che soccorre quello che in qualche modo si inceppa che è quello della prosa quella che Merleau Ponti il suo Merleau fa la prosa questa prosa di mondo lenta come fiume che va avanti eccetera è piuttosto per lui impedita e inceppata Biamonti rinuncia dunque alla azione manzi a favore della contemplazione a favore della contemplazione e forse il suo fine proprio il raggiungimento della definizione di paesaggio assoluto come Calvino voleva e aveva così acutamente determinato addirittura nel primo leggendo il suo primo libro pensate dunque non la posso fare lunga perché il tempo che abbiamo è pochissimo ma pensate a Sbarbaro pensate a Montale pensate ai grandi libri che peraltro Francesco amava moltissimo e che spesso ci recitavano a vicenda per consolarci dei mali del mondo Sbarbaro Montale soprattutto ora naturalmente queste che ho enunciato così sveltamente sono tutt'altro che principi narrativi sono tutt'altro che principi romanzeschi se qualcuno cercasse un romanzo romanzo tra i romanzi di Biamonti non lo troverebbe non lo troverebbe nel modo più assoluto da un punto di vista formale e tecnico diremmo che Biamonti come dire nega lo statuto stesso del romanzo mette in crisi lo statuto stesso del romanzo i personaggi sono alla lettera come diceva Giacomo Benedetti in quel famoso saggio sul personaggio uomo sono alla lettera questi personaggi di Francesco sono numeri di matricola non sono persone sono numeri di matricola i quali numeri di matricola portano con sé un segreto un problema qualche cosa da discutere qualche cosa che non è del tutto chiaro e che il romanzo si propone di chiarire o di condurre a chiarezza o di condurre a una eventuale possibilità di chiarimento questi sono i personaggi di Francesco così allo stesso modo le azioni di un romanzo nei suoi romanzi sono bloccate non si risolvono non si risolvono lo abbiamo detto prima queste azioni come questi personaggi sono piuttosto problemiche azioni sono piuttosto problemi che personaggi o azioni in particolare due problemi come abbiamo detto prima in maniera succinta il primo problema è quello della pena del mondo è quello del dolore questo è ciò che conduce un personaggio ciò che mostra a noi lettori un personaggio il problema del dolore questo è un problema evidentemente filosofico è un problema di derivazione leopardiana uno degli autori più letti che più nati da francesco era Giacomo Leopardi e Giacomo Leopardi come sapete bene del dolore fa un tema non soltanto purtroppo privato eccetera ma del dolore fa un tema cognitivo e di diciamo così di individuazione di cause e effetti che fa di Leopardi uno è stato anche uno dei filosofi dei pensatori più interessanti il suo tempo prima il dolore secondo è il paesaggio quello che abbiamo detto il paesaggio è un ragionamento perché dico che è un ragionamento perché di fronte a un paesaggio io posso assumere un atteggiamento di descrizione di morfologia oppure di interrogazione io posso chiedere a un tramonto che cos'è posso chiedere alla luna chi è dimmi che fai silenziosa luna io posso chiedere qualche cosa al paesaggio questo atteggiamento lirico filosofico che in qualche modo contraddice ampiamente ma fa risplendere fa scattare in maniera improvvisa diciamo inaspettata i livelli del romanzo è l'atteggiamento lirico di Francesco Biamonti nei confronti della natura delle cose della realtà la realtà non va lasciata con me non va descritta per quello che è perché c'è poco da descrivere per certi aspetti ma va continuamente interrogata allora questa realtà è possibile che risponda è possibile che stia zitta eternamente come la luna di Leopardi è possibile che il mare gli ulivi gli ulivi incelati guardate che dantismo che c'è in Biamonti gli ulivi incelati non rispondano mai ma il nostro obbligo etico di scrittori di uomini è quello di continuare a interrogare grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti